allora allora parliamo di una cosa che non vi piacerà intanto ve lo dico subito questo video non sarà per un cazzo politicamente corretto quindi se vi danno fastidio temi come manipolazione mentale femminile giochi di potere all'interno di una relazione oppure le donne che controllano gli uomini levatevi subito dalle palle perché io voglio parlare con persone che cercano di capire gli errori che stanno facendo all'interno della propria relazione e vogliono salvarla se voi volete salvare la vostra relazione puntando a lavorare e migliorare l'amore all'interno della relazione siete fuori strada se in questo momento vi siete trovati vi state trovando in una situazione in una relazione che si sta sfaldando e non capite il perché perché pensate che sia arrivato un altro e lei vi dice non provo più i sentimenti di prima lei vi dice e sei cambiato e tutte queste cose qua io praticamente sto cercando di farvi da traduttore in questo linguaggio già questo video vi dovrebbe svegliare abbastanza è creato apposta per darvi una bella apertura di occhi se invece volete capire molto meglio come la vostra relazione può essere salvata io vi consiglio sempre di venire in consulenza direttamente con me ok ora il grande errore che fanno gli uomini quando si trovano alla fine di una relazione cioè verso la fine quando sentono che lei si sta staccando che lei dice non ho non provo più i sentimenti per te quelli di una volta sei cambiato non ti amo più l'uomo che cosa fa istintivamente vuole riparare vuole riparare vuole andare ad aggiustare basandosi sulle cose che ha sentito dalla donna quindi allora non provo più amore non provo più pensa l'uomo non c'è più connessione allora faccio di tutto per ricreare connessione non sei più quello di prima allora che cosa faccio cambio per essere di nuovo quello di prima ecco qua ci andiamo a infossare sempre di più perché uno non riusciamo a capire come abbiamo fatto a cambiare due non riusciamo a capire che cosa intende la donna per essere cambiati e tre non riusciamo a capire che cazzo vuol dire quella roba della connessione tutti quanti di connessione dici cazzo connessione manca la connessione però io la provo perché lei non la prova vedi e qua siamo completamente tutti in banana e siamo nella nebbia che non riusciamo a capire allora la prima cosa che una donna che fa perdere l'attrazione a una donna è soprattutto il discorso che ci siamo fatti manipolare troppo velocemente allora è scientificamente provato che le donne vogliono stare con chi è difficile da ottenere con chi è una sfida con chi è misterioso quindi anche soltanto pensare questa cosa all'inizio della vostra relazione quando vi stavate conoscendo siete stati una sfida probabilmente sì se no non sarebbe rimasta con voi ma quel tipo di sfida di mistero anche mistero vi siete fatti conoscere presto o avete degli scheleti nell'armadio o avete tenuto dei segreti o avete no lei comincia a confidarsi con voi e voi quindi visto che c'è questa connessione questa chimica visto che il vostro obiettivo è portarla letto creata ancora più connessione come aprendovi come un libro ok vi aprite come un libro aperto questa cosa ok a quel punto lì non siete più una sfida non siete più misteriosi vi siete dati troppo facilmente quindi attenzione a chi perde la testa nelle prime settimane quindi quelli che fanno una relazione e dura tre settimane e poi cominciano a regalare il viaggio cominciano a direttiamo subito cominciano a essere presi cominciano a togliere dalla propria lista depennare tutte le altre donne con cui stavano uscendo stavano uscendo forse perché magari eravate soli e lei appena l'ha scoperto lì a quel punto lì perde attrazione una donna perché dovete sempre vedere che dovete sempre pensare che le donne ragionano a compartimenti ragionano a schemi a livello ok non come noi che ragioniamo in linea retta loro ragionano come se tu passassi un livello a seconda di quel livello a seconda di come ti comporti loro prenderanno altre decisioni questo è quello che dovremmo fare anche noi in verità però non lo facciamo perché perché noi abbiamo un obiettivo ragioniamo sempre a obiettivi ragioniamo dritti infatti poi il nostro obiettivo diventa la nostra donna quando noi abbiamo lei come obiettivo lei perde attrazione proprio perché noi siamo diventati il suo obiettivo la donna all'inizio vuol stare con noi perché noi abbiamo obiettivi siamo persone indaffarate siamo persone difficili da ottenere siamo persone siamo i famosi pezzi di ghiaccio che non si rivelano a quel punto lì lei vorrà combattere vorrà capire chi si trova davanti già questo discorso lei è molto attratta perché sta lavorando si sta sbattendo per ottenere l'amore infatti a livello base 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 noi visto che il nostro obiettivo è fare sesso che cosa facciamo diamo attenzioni attenzioni sperando di avere sesso e qua tutti quanti ragazzi quelli che stanno sui social network su instagram ok io la continuo a dire questa cosa perché siete fottuti e se continuate a stargli dentro se state su instagram e pensate di avere donne pensate di avere opportunità perché credete alla legge dei grandi numeri quindi ne avete tanta disposizione lì voi siete nella bocca del lupo perché una donna non combatte per avere la vostra attenzione le donne vogliono attenzione tanto quanto gli uomini vogliono il sesso ok e a quel punto lì non sta combattendo per avere la vostra attenzione basta una foto bella che voi le mettete un like e lei non ha dato cambio sesso in cambio di quel like è stata una foto non ha investito per avere il vostro amore non ha investito tempo energie per stare con voi ok però passiamo a un discorso di relazione di coppia un po più avanzata perché le donne perdono interesse proprio perché dall'inizio verso la fine quando perdono poi interesse definitivamente chi vi lasciano c'è stato un perenne gioco di potere e è arrivato al punto in cui voi siete talmente nelle sue mani che lei sa di avervi in pugno ha realizzato questa cosa che ovviamente non deve essere fraintesa perché le donne non lo fanno apposta le donne non non fanno apposta a giocare non fanno i giochi di potere all'interno di una relazione e fanno di proposito per me non fanno di proposito il fatto di mettervi in crisi ok di prevaricare su di voi ma lo fanno a livello istintivo una donna sarà sempre è progettata per calpestare un uomo perché perché se io lo permette se ti fai calpestare le realizza che tu non sei l'uomo che fa per lei praticamente ragazzi è un gioco a perdere voi dovete già sapere che una nonna vi calpesterà tutte quelle frasi del cazzo che vi dice anche soltanto non lo so mi accompagni la che voi la credete come per benismo voi lo fate perché vi vi fa piacere stare con lei oppure lei ti chiede mi accompagni a fare una commissione mi accompagni la mi compri questa cosa mi aiuti qui e voi lo fate perché vi credete il suo punto di riferimento quindi una cosa che va a dar da mangiare al vostro ego lei quello lo interpreta come piccoli mattoncini di controllo e quando quei piccoli mattoncini diventano troppi a quel punto lei da un momento all'altro realizza che vi è in mano vi è in pugno e quindi potrebbe fare qualsiasi cosa di voi e automaticamente perde attrazione per voi e vuole più stare con voi quindi cioè non dovete stare a piangere e venite in consulenza che dite no ma io sono il suo punto di riferimento io l'ho aiutata io l'ho fatta adesso mi tratta così è naturale così ragazzi ok lo farà apposta per prevaricare su di voi se poi ce la fa appena ce la fa a quel punto lì non siete più attraenti per lei perché cercherà un altro uomo da poter prevaricare attenzione e quello che non riesce non riesce a prevaricare non riesce a salire sopra di lui non riesce a calpestare quello potrebbe essere l'uomo della sua vita è una cosa che fa male sentirsi dire io l'ho detto che questa questo video è una merda perché vi metto la verità in faccia ma purtroppo le cose stanno così ok quindi appena ci si sente appena un uomo sente di essere controllato all'inizio quando all'inizio anche durante una relazione quando sentite che che siete controllati fermatevi fermatevi vi devo fare degli esempi perché se non lei non la capite parlo con tantissimi uomini che vengono in consulenza con me senza capire dove sono stati controllati perché loro credono come ho detto prima questa cosa del io sono il punto di riferimento ragazzi l'ho fatta anch'io sta roba è una merda e l'ho fatta anch'io una volta se volete ve la dico mi frequentavo con una che lei per me era giù di da giù di testa era lei che mi aveva contattato era lei che non vedeva sempre l'ora di vedermi era lei che faceva di tutto per me all'inizio all'inizio inizi io appena l'ho vista sono andato completamente nel pallone ok era una che girava il mondo era una che ok intraprendente era una che cazzo in confronto mi sentivo piccolo così e già questa cosa ti fa capire che se io mi sento piccolo così lei nasa questa cosa cioè che io mi sento più piccolo e già per un concetto pergamico che 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 è una cosa istintiva delle donne che cercheranno sempre una persona di livello superiore se io l'ho già l'avevo già messa a sopra un piedistallo perché mi sentivo più piccolo e lei è ovvio che ti guarda dall'alto verso il basso ci siamo benissimo a quel punto lì ha tirato il freno a mano ci siamo frequentati ok ci siamo frequentati andava tutto bene io facevo anche un lavoro notturno lei mi veniva a trovare di notte quando staccavo quelle cose che sicuramente avete fatto anche voi quando poi le donne tirano tirano il freno a mano che tu dici cazzo ma prima lei mi veniva a trovare in orari improponibili com'è che adesso non ha più tempo non ha più tempo proprio perché ormai sa di avervi in pugno quindi voi cominciate a rimuginare perché siete uomini e quindi non è logica questa cosa per voi cioè prima faceva adesso invece non riesce più non ha tempo non non riesce più neanche a prendere un caffè non riesce più è è imprendibile questa cosa ci fa andare completamente fuori di testa perché perché ragioniamo a se prima era così adesso non riesce c'è sicuramente qualcun altro c'è sicura lei se ne sta andando ha perso attrazione è ovvio ma ha perso attrazione prima in un passaggio prima quando quando voi eravate troppo disponibili infatti io per lei vi posso assicurare che ho praticamente fatto di tutto ho fatto fatto che una cosa mi viene da mi venda ridere adesso a pensare queste cose l'ho accompagnata a milano per fare una cosa ho preso un giorno di ferie sono andato lì lei non aveva neanche i soldi per la macchina allora io dico no ci penso io l'ho portato alla colazione ragazzi queste cose che fanno veramente pietà ok e per scoprire che cosa che dopo lei non era più interessata a me quindi anche voi quando fate queste cose ricordatevi che non è che le donne perdono attrazione da un momento all'altro perde un'attrazione proprio perché non siete più quella persona iniziale quella persona che la fate faticare e se poi voi non le fate faticare perché sono bellissime hai capito perché dovete vantarvi con i vostri amici che quella lì che è una cosa incredibile vi state scopando lei quindi è più una questione di sfida con i vostri amici appena voi sapete e siete convinti che vi state scopando la più bella che avete mai scopato a una donna non interessa perché la bellezza è un'arma femminile di sempre per una donna essere bella non è così importante non vedrà mai la bellezza come voi vedete la bellezza voi volete stare con la donna più bella quella che i vostri amici non si possono permettere invece voi sì ma una donna è lei è lei lei si sveglia tutti i giorni con questa bellezza infatti le donne non cercano la bellezza in un uomo sono già belle loro le donne cercano la forza mentale le donne cercano la persona che non si fa scalfire dagli sbalzi d'umore una donna cerca una persona indipendente una persona assertiva una persona che cazzo non hai la macchina per andare a milano ho pensato io che doveva andarci per i cazzi suoi io le dovevo dire trovati un modo per andarci perché io ho delle cose da fare però a quel punto lì io sto facendo anche un lavoro che non è che mi stavo dedicando al mio business come sto facendo adesso quindi anche queste cose ragazzi quando siete io non voglio offendere nessuno ma se state facendo un lavoro da dipendenti normali non avete la mentalità per ragionare a questo livello ok prendetela come classismo prendetela come che cazzo ne so però è la pura verità ma perché perché io col mio progetto ho delle responsabilità devo aiutare le persone davvero non voglio che che mi arrivino dei casi del cazzo e cioè devo lavorare molto anche in difesa della mia stessa del mio stesso progetto ok se invece voi lavorate tutti i giorni che non avete sbatta di andare al lavoro che state perdendo il tempo davanti alla macchinetta del caffè praticamente che rubate i soldi rubate lo stipendio come potreste come potrete come potete come potete far capire a una donna che voi avete quella mentalità di uno che pensa alto una mentalità di uno che si prende le responsabilità quello che è assertivo che non si lascia manipolare una persona che non ha tempo da perdere una persona che ha un focus una persona che ha sì forse il tempo a perdere la cosa è il valore più grande di una persona che cerca di tirare su il suo status ok perché per tirare sul vostro status ed essere delle persone di valore dovete lavorare davvero su di voi e qua con questi occhi cominciate a vedere tutti quelli che stanno su instagram stanno perdendo tempo se tu io ho parlato con un ragazzo questa settimana che lui io spero mi senta che ha delle belle due ragazzi che hanno delle bellissime idee che hanno già una mente imprenditoriale però ovviamente si sono lasciati hanno perso la testa per le loro morose tutto il resto stanno cercando di riattivare l'attrazione con queste donne e il fatto che loro sono focalizzati sulle sulle loro donne e non sul loro business cioè su quello che vorrebbero tanto fare dovrebbero già capire da questa cosa che cioè quello che vede la loro donna e del e del perché la loro donna se n'è andata perché se n'è andata perché loro sono focalizzati su di lei le prove ragazzi sono quelle non dovete soltanto raccontare alla vostra donna che siete avete cominciato a fare gli imprenditori immobiliari oppure avete cominciato a boh mettere su un'azienda e tutte queste cose quando tutte queste cose non riflettono l'interesse che avete per il vostro obiettivo in confronto cioè magari la sto dicendo un po male adesso ve la dico ve la metto con chiarezza per esempio se voi lavorate tanto ok siete talmente indaffarati nelle vostre cose e io già qua ragazzi io spero di non parlare con gente che cazzeggia ok io spero che il canale youtube vi aiuti ad arrivare a questi discorsi ma se prima avete guardato il canale di che cazzo e vi è capitato il mio non è che siete molto predisposti a ricevere le mie informazioni però facciamo che ok se voi siete una persona che vuole migliorare il proprio stato economico che vuole lavorare seriamente alle vostre cose ok e lo fate a quel punto lì ritornando al discorso del gioco di potere la donna senti non avere potere su di voi quindi che cosa fa vi comincia a dire è ma non stai mai a casa vi comincia a dire è ma avevi detto che 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 andavamo là e poi non ci siamo andati e comincia a dire cazzo vorrei stare con te però tu non stai mai con me e quindi allora il primo livello qual è è che voi tornate prima dal lavoro voi ripeto ragazzi io questa distinzione la devo fare cioè se voi siete un impiegato normale non vedete l'ora di tornare a casa lo so ma se voi siete invece un imprenditore un atleta di successo che avete l'obiettivo di andare all'olimpiadi l'anno prossimo ok perché vi state allenando da tre anni la ragazza che vi dice è ma non stai mai con me a parte il fatto che mi chiedo perché state con una così perché dopo un po c'è chi si somiglia si piglia e se voi avete attirato una vostra una donna così nella vostra vita che non capisce la testa che avete quanto siete ambiziosi c'è qualcosa che non va o vi siete conosciuti in adolescenza o vi siete conosciuti prima di avere questa mentalità quindi se una donna vi vede troppo al lavoro ma voi siete una persona che vuole alzare il proprio status vuole lavorare su di sé vuole dare qualcosa a questo mondo non c'è scusa che tenga voi non dovete tornare prima dal lavoro voi non dovete mettere da parte i vostri interessi soltanto perché lei si è lamentata perché il livello 1 è che lei si è lamentata e quindi voi che cosa fate vabbè torno un'oretta prima così non mi caga il cazzo vedi questo già denota il fatto che voi non avete le palle di discutere con la vostra donna se voi discutete perché per chi guarda un film su netflix non è discutere quello lì se voi discutete al ristorante per delle cazzate non è discutere quello discutere invece per la difesa della propria libertà per la difesa del proprio obiettivo per la difesa del proprio senso dello scopo voi avete sempre ragione ma non soltanto per voi anche per lei perché lei vorrebbe tanto che voi foste così solo che basta un è ma non ci sentiamo mai e non torni mai a casa e torna a casa presto e voi lo fate a quel punto lì lei dice ok fatto è stato facile ed è per quello che perde attrazione per voi nel lungo periodo perché cominciate a cambiare per lei e ritorno al discorso e ma sei cambiato sei cambiato perché ti sei fatto manipolare da da tondo sei diventato boh una cacca ok hai preso un'altra forma se voi cominciate da anche perché credete a quella cagata del nel rapporto di coppia bisognerebbe sempre scendere a compromessi allora scendere a compromessi ragazzi cosa vuol dire intanto scendere vuol dire che voi siete un punto alto e scendete in un punto più basso e già con il concetto dell'ipergamia non vado accordo perché le donne vorranno sempre stare con un uomo più alto di loro a livello di status status forza mentale e ragazzi andate a vedere i miei video andate sul sito ci sono gli articoli di blog capitene un po di più scendere a compromessi compromesso cosa vuol dire una persona compromessa una persona compromessa è una persona che perde di valore è una persona che che per cioè se un oggetto è compromesso vuol dire che è rotto se una persona è compromessa vuol dire che ha perso ha perso il suo valore si sta deteriorando quindi scendere a compromessi parte il fatto che c'è anche la frase bisogna scendere a compromessi questo bisogna io dico chi l'ha detto c'è una persona che ha detto che ha messo per iscritto e mi ha confermato che questo bisogna scendere a compromessi porta dei risultati nella vita perché a me sembra che le relazioni più andiamo avanti più ci siano sempre più divorzi ci siano sempre più separazioni quindi sto bisogna scendere a compromessi nella vita non ha non ha un buon fine ok ricordatevi ai ragazzi che più del 50 per cento dei dei divorzi lo decide la donna no allora ci sono delle percentuali allora più del 50 per cento dei paesi sviluppati sono in delle coppie nei paesi sviluppati divorziano ok delle nuove coppie entro otto anni adesso ci sono i dati più dell'ottanta per cento di queste di questo interno del 50 per cento sono le donne che scelgono di divorziare ma vi siete chiesti il perché vi siete chiesti il perché è perché probabilmente non stanno rispettando le cose che vi sto dando gratuitamente in questo video